allora non andava più non andava più perché questo era senza la calamita e la calamita dove finita ecco la calamita bravo tienilo tienilo che così almeno mettilo qua che così non lo perdi abbiamo trovato la calamita che aveva perso attaccata al telaio la nostra è di alluminio non si attacca la sua è di ferro si è attaccata l'abbiamo trovata